Il primo ricordo del primo giorno di lavoro in realtà è il ricordo dell'arrivo alla stazione di Ferragna perché io abitavo a Savona e sono andata a Ferragna in treno, al mattino per me piuttosto presto perché il treno direi che partiva intorno alle 7 meno un quarto da Savona, un orario del 7 meno 10, un orario così e erano appena passate le feste natalizie, c'erano state delle grandi nevicate molto belle e quando siamo arrivati alla stazione di Ferragna sembrava di essere in alta montagna, da una parte era una meraviglia, dall'altra è stato impressionante, siamo scesi dal treno ed eravamo tanti, non lo so se più ci penso e più mi sembra aumentare il numero, ma c'erano dei bei gruppi di persone, direi forse tra le 50 e le 100 persone perlomeno e ci siamo incamminati lungo il viale che dalla stazione porta allo stabilimento nei controviali da cui praticamente non si vedeva la strada, perlomeno quelli della mia statura, quelle della mia statura non riuscivano a vedere oltre i cumuli di neve che erano stati ammucchiati lungo il viale tra un albero e l'altro, era stata una passeggiata bella, ma mi sentivo catapultata in un mondo strano, non perché non conoscessi la Val Bormida, però insomma in quella situazione lì era decisamente particolare e quindi il primo impatto con Ferragna per me è un ricordo da alta montagna. Per molto molto tempo quello che ho fatto è stato un lavoro noiosissimo di aggiornamento di schede, i computer non c'erano, c'eravamo noi umani che continuavamo a ricopiare dati da una scheda a un'altra scheda, a un modulo, a un registro e quindi il lavoro andava avanti in questo modo per tantissimo tempo. Anche le macchine da scrivere, io come ultima assunta ho avuto diritto solo a una macchina da scrivere di tipo meccanico, quelle elettriche ce le avevano le colleghe con maggiore esperienza e quindi dovevamo scrivere moduli in svariate copie con la carta carbone di mezzo. Io credo di avere ancora degli incubi pensando alla carta carbone perché era terribile, perché per quanto cercassi di essere precisa l'errore scappava, quindi insomma era un disastro. Poi dopo un certo tempo finalmente, ma forse qualche anno, non sono sicura, quando finalmente ho avuto una macchina elettrica con un nastro correttore, mi è sembrato proprio di vivere in un mondo nuovo, ecco la mia vita ha fatto un salto di qualità. Mi sono trovata bene da subito in ufficio con le colleghe o con le persone degli uffici vicini. Certo che nel 71 si era molto più formali di quanto non si sia adesso e ci si dava spesso del lei, non con le colleghe dell'ufficio ma con persone di uffici con cui si avevano contatti saltuari, non un continuo sentirsi. Si era molto formali e ci si dava facilmente del lei, ci si incontrava alla mensa, non ci si conosceva e ci si dava del lei e pensarlo adesso è stranissimo quando si entra nei negozi oramai, malgrado la mia età, le cassiere mi dando il tuo lo stesso, anche se non ci siamo mai visti prima. Poi negli anni, negli anni ovviamente come è cambiato il mondo fuori è cambiata anche Ferrania, via, quindi una maggiore cordialità, una forma diversa nei rapporti delle persone, anche incoraggiati dalle numerose iniziative aziendali che riguardavano le attività extra lavoro, per cui c'era tutto il settore per il tempo libero che era molto attivo, venivano organizzate gite, c'erano occasioni sportive, le partite di calcio, i campi da tennis, le bocce, non so dire ma passeggiate, c'era stata la dell'Asia poi che era stata sistemata, quindi anche un percorso vita, non mi ricordo come si chiamano esattamente, quei percorsi con gli attrezzi ginnici, quindi passeggiate che uno può fare intanto allenarsi un pochetto, che sono cose simpatiche. E quindi devo dire che da quando ho iniziato a lavorare a quando sono andata via ho visto proprio cambiare il mondo fuori e anche a Ferrania per i rapporti con le persone e per come purtroppo si è dissolta la storia della vita dell'azienda. Credo che i legami con gli operai fossero più stretti con gli impiegati del reparto, del settore nel quale lavoravano. Io ero nell'amministrazione, quindi conoscevamo tantissime persone, magari solo di vista o per aver parlato con loro solo una volta e quindi era più difficile intrattenere dei rapporti. Se non ci si conosceva fuori si erano effettivamente un po' separati, era più facile dei legami di amicizia tra impiegati che non tra impiegati operai, proprio perché ci si vedeva di meno. Gli operai facevano di più i turni e quindi alla mensa magari noi non li incontravamo neanche. Vedevamo molto quelli della manutenzione che avevano il nostro stesso orario di intervallo, quelli mitici della centrale. Negli anni, nei primi anni, diciamo tra i 70 e l'80, la giornata tipo era arrivare in ufficio o cominciare a prendere un plico, una pila di moduli o di schede e andare avanti nella compilazione, rispondere al telefono, alle richieste di informazioni, poi magari passare sempre a schede, ma di qualche altro tipo. Per esempio negli anni 70-80 i sindacati a Ferragna erano molto attivi, erano molto forti e le condizioni di lavoro e dei lavoratori senz'altro dovevano essere migliorati. Quindi ci sono stati molti accordi sindacali che prevedevano indennità di vario tipo o passaggi di categoria, parliamo di operai soprattutto. Venivano riformulate le descrizioni delle mansioni e in base a questa descrizione, in base a ricognizione sul posto di lavoro, valutazioni etc., veniva attribuita una categoria del contratto chimici e chi ancora non si trovava in quella categoria lì veniva ovviamente promosso. Questo faceva sì che parlando di reparti con numerosi addetti tipo le confezioni della pellicola, magari in un mese ci fossero da compilare 200 moduli per fare 200 passaggi di categoria e poi questi moduli procedevano il loro cammino due porte più in là all'ufficio Paghe dove andavano avanti con la realizzazione pratica di quanto era stato concordato tra i sindacati e la direzione. Quindi la giornata era un continuo passaggio da una parte burocratica o un'altra parte burocratica ma sostanzialmente sempre di quello si trattava. Oppure, e lì c'era un pochino più di movimento, quando si doveva assumere qualcuno e quindi chiamavamo magari dei candidati, venivano organizzati gli incontri, le persone venivano viste da responsabili del personale e da responsabili del settore di destinazione e quindi c'era tutto questo movimento di smistamento, accoglimento delle persone, parlare un po' anche con loro anche per farli rilassare un pochino. Il mitico rimborso spese perché ai tempi 3M, tempi 3M veniva rimborsato totalmente il viaggio a chi veniva, a chi veniva chiamato per un'intervista di assunzione e quindi sulla base di biglietti ferroviari o quello che poteva essere, si veniva in macchina con le tariffe di quattro ruote, ci sono delle tariffe chilometriche che tengono conto anche dell'usura della macchina. Per cui facevamo il conteggio poi del rimborso chilometrico a questi, di solito erano periti o neolaureati che arrivavano in macchina ed erano molto soddisfatti del rimborso che gli davamo. Ci dicevano che le altre aziende non erano così generose e lì forse avremmo dovuto cominciare a preoccuparci, forse abbiamo avuto anni di grande generosità che non ci potevamo permettere. C'era la vita delle persone in quella carta e quindi era importante e quando poi è passata nei computer visivamente rendeva meno, cioè raccogliere una cartellina con i dati delle persone dove ogni volta aggiungevamo un foglio con il passaggio di categoria, l'aumento o una lettera, una congratulazione o anche magari una contestazione se qualcosa era andato storto per la carità. Però sfogliare le cartelline ti dava l'idea comunque dell'esistenza, erano persone. Quando poi i dati sono passati in qualche sistema informatico, anche se magari di veloce reperibilità sono diventati elenchi Excel e tutto sommato facevano più tristezza, non davano più la stessa impressione, era più difficile capire le persone. Per capire le persone la carta, la foto, il modo in cui veniva scritta la domanda di assunzione, tante cose sono state utili, aiutavano tantissimo. Da una parte il fatto che sia rimasta soltanto la carta mi fa tristezza per una realtà che non esiste più, perché pensando a una fabbrica si pensa alla vita, come se fosse un organismo comunque, non è soltanto la vita di chi ci ha lavorato, ma forse la vita delle persone è stata un po' assorbita dai muri, dai tavoli, dalle stanze. E quindi mi fa tristezza che tutto ciò non ci sia più, che la vita della fabbrica sia finita. E dall'altra il fatto che qualcosa sia rimasto è una piccola consolazione, è un ricordo finché qualcosa rimane nei pensieri, nei ricordi e può venire studiato, capito, è comunque, non so, è archeologia industriale. Nessuno ci trovava niente di strano, credo, perché? Perché era così anche il mondo fuori, il fondo Ferrania non era mica diversa dal mondo fuori. In quegli anni la maggior parte delle assunzioni femminili riguardavano le posizioni più ripetitive, di attività più semplici, non era richiesta una particolare scolarizzazione. Per cui quando c'erano così tante donne, era sufficiente la terza media, anche meno. E venivano prima di tutto adibite alle attività dei reparti, dove la sensibilità di una mano femminile poteva essere più indicata per certi lavori delicati. E molti lavori erano delicati, ce ne erano veramente tanti. E quindi nessuno trovava strano che ci fossero così tante donne, perché quello era un lavoro da donne, era considerato un lavoro da donne. Poi le donne anche da quelle attività lì potevano passare ad altro, tipo la segreteria di reparto o uffici amministrativi. Quindi c'era poi la possibilità di una piccola carriera comunque di qualche avanzamento, è successo con moltissime. Però che le posizioni di responsabili fossero completamente degli uomini, non stupiva nessuno, non c'erano rivendicazioni di quel tipo. Poi più avanti, negli anni 80-90, sono cominciate ad arrivare molte laureate donne, finalmente. Ma i responsabili erano comunque sempre un pochino arrestii, perché c'era questa cosa che poi le donne decidono di avere un figlio e quindi sono poi assenti dal lavoro per mesi, per il periodo di maternità. E questo a molti sembrava un problema grave, cioè affidare delle posizioni di più alto livello a delle donne, sapendo che poi da un momento all'altro avrebbero potuto assentarsi per qualche mese, gli sembrava di mettere a rischio il loro reparto, il loro settore. Qualcuno ha iniziato e poi in realtà non è più stato un problema. Ecco, poi le donne sono entrate numerose, erano laureate, hanno occupato delle posizioni decisamente buone, anche se le decisioni sono poi sempre state in mano ad uomini, devo dire, perché di donne dirigenti, di donne dirigenti dobbiamo arrivare, credo a Imation, prima di trovare qualcuna. Forse non ricordo bene, ma non mi sembra che ci fossero donne dirigenti in 3M a Ferrania. A volte nei documenti si trovava veramente che c'era tutto, non solo la dinastia, ma anche i collaterali, proprio c'era tantissime persone delle stesse famiglie. A volte si trovava nei documenti, la maggior parte delle volte no, perché poi in fondo non era significativo sapere se ci lavorava anche un cugino, per dire, non importava assolutamente. Però si veniva poi a sapere che appunto tanti erano molto collegati fra di loro. Quello che era più bello tutto sommato era che ci fossero state generazioni, il nonno, il padre, e il figlio, che continuavano a venire in fabbrica. Magari molti erano davvero affezionati, perché la fabbrica aveva significato potersi guadagnare la vita, poter avere, certo, forse gli stipendi non sono mai quelli che uno desidererebbe avere, credo. E allora, indubbiamente, all'inizio degli anni 70, suppongo che fossero ancora molto migliorabili, però permettevano comunque una certa indipendenza economica, quante persone sono riuscite a mantenere la famiglia, a farsi il piccolo mutuo, eccetera. Con gli anni poi la situazione, direi che dal punto di vista economico, è migliorato, come dicevo prima, il riconoscimento di livelli diversi a seconda del tipo di attività svolta, di indennità varie, le indennità dei turni, c'erano indennità di tutti i generi, c'erano anche benefici aggiuntivi. Cose che magari potrebbero anche, dal punto di vista moneta, possono essere significative, se pensiamo anche soltanto all'infermeria, che era lì in azienda e che era poi sempre a disposizione, non era soltanto lì per le visite periodiche obbligatorie per legge o rese obbligatorie dalle politiche aziendali, perché comunque l'azienda, dal punto di vista di protezione della salute e di prevenzione degli infortuni, si dava molto da fare per quello che ho potuto vedere, ma banalmente io andavo a lavorare, mi sentivo che mi stava arrivando l'influenza, passavo un momento in infermeria e il grande dottor Satragno mi dava una pacca sulla spalla, mi allungava una scatola con le aspirine o qualcosa del genere e mi diceva vai che stai bene, per qualunque cosa. Poi con gli anni addirittura si sono avvicendati anche degli specialisti, venivano una volta, due volte, tre volte alla settimana l'oculista, il ginecologo, altri medici generici, poi c'erano le cene di reparto, che per noi erano le cene di ufficio naturalmente. Una volta all'anno avevamo diritto ad andare a cena fuori e l'azienda rimborsava, credo nei primi anni che rimborsasse totalmente, però la crisi è iniziata presto, a un certo punto avevano messo una cifra a testa, per cui se si eccedeva a quella cifra poi bisognava integrare ovviamente. Però una volta all'anno comunque l'azienda contribuiva bene a una cena di reparto in cui andare a chiacchierare, divertirsi, cantare e via. Quindi in quelle occasioni abbiamo girato qualche locale, di solito della Val Bormida, perché la maggior parte delle persone abitava in Val Bormida e quindi noi di Savona magari salivamo al ristorante in Val Bormida, erano cose simpatiche. E andando ancora indietro, i primi anni in cui ho lavorato a Ferrania non c'era più il pacco dell'ingegner Schiatti che io non ho conosciuto. Però nel 71 e nel qualche anno, e per parecchi anni ancora successivamente, c'era il dono dei giocattoli per i bambini a Natale, che comunque era una cosa simpatica, in fondo i giocattoli ai bambini sono sempre piaciuti e anche i genitori trovare qualche giocattolo in più regalato, credo che abbia sempre fatto piacere. Ci sono stati moltissimi anni in cui, senz'altro, i lavoratori avevano la massima fiducia nell'azienda, che si chiamasse 3M o in qualunque altro modo. Però era assolutamente inconcepibile che potesse cambiare in peggio. Gli unici cambiamenti che venivano immaginati erano miglioramenti continui. Si pensava che tutto potesse migliorare, che tutto potesse migliorare e che non ci sarebbe stata fine a questa serie di miglioramenti. Quindi a volte anche con pretese forse eccessive. Quando poi si è arrivati al passaggio da 3M a Imation è stato un grande shock, un grandissimo shock. In realtà dei segnali precedenti c'erano stati. Forse tendiamo a trascurare quello che ci preoccupa e pensiamo che sia un intoppo momentaneo, però anni di blocco delle assunzioni e anche risalenti a parecchio tempo prima del passaggio da 3M a Imation. Io sono entrata nel 71, direi che nel giro di un annetto c'è stato il primo piano di incentivazione alle dimissioni, direi che poteva essere probabilmente intorno al 72. Ricordo persone che hanno accettato di trasferirsi a lavorare alla sede di Milano e delle persone che hanno dato le dimissioni con un piccolo incentivo economico, piccolo per i tempi, non era neanche tanto piccolo, poteva essere l'equivalente per un operaio di 10 mesi, un anno di stipendio, ecco cose di questo genere e successivamente per alcuni anni non si sono verificate assunzioni fino poi al 76-77. Le uniche assunzioni a Ferragna erano appartenenti a categorie portette, quindi invalidi, orfani, vedove eccetera. Parliamo quindi già degli anni 70, non era certo un buon segno quello, probabilmente, io non lo so, probabilmente stava cambiando il mercato, forse stavano abbandonando la pellicola cinema, forse o le foto in bianco e nero, perché poi c'erano stati già negli anni dei cambiamenti forti dovuti all'abbandono di alcune attività che evidentemente non rendevano più, non avevano mercato. Trem era generosa, ma immagino che chiedesse anche un bel margine su quello che commerciava. E quindi, e negli anni si sono succeduti diversi segnali di pericolo, in questo senso, contenimenti delle spese e soprattutto i periodi in cui venivano bloccate le assunzioni, avrebbero forse dovuto metterci un pochino più in allarme, non credo che avremmo potuto fare niente, è cambiato il mondo da allora, è cambiato le aziende, in fondo noi parliamo di Ferrania come di un gigante, ma le aziende fuori erano così, io conosco persone che lavoravano in Fiat a Torino, in Olivetti, anche qui in zona, voglio dire, c'era stata anche la Fiat qui a Savona, Vado, dove era, ci sono state grandi aziende e se hanno, non lo so che tipo di difficoltà possono aver avuto, ce ne sono state tante, ma sostanzialmente forse il mercato ovviamente, il grande padrone è il mercato e non c'è salvezza, ecco adesso mi sembra che l'industria si stia dissolvendo, andiamo verso l'immaterialità del lavoro forse, forse la situazione così che noi abbiamo vissuto a Ferrania si potrà ritrovare in qualche altra del mondo dove le fabbriche stanno aprendo e noi siamo il loro futuro purtroppo. Sono andata, dopo che ho smesso di lavorare a Ferrania ci sono ancora andata una volta o due, ma nell'anno successivo, poi non sono più andata e mi sento triste all'idea di andarci, mi hanno raccontato come è stata smantellata e mi dispiace, anche se quando lavoravo lì non è che sentissi tutto questo amore per l'azienda, poi ero giovane, non vedevo l'ora di uscire, non è che fossi così felice, però l'importanza comunque del lavoro nella mia vita la devo riconoscere, mi ha portato a un'indipendenza comunque nei miei limiti, un'indipendenza economica, il fatto di poter avere la mia casa, di poter fare le mie cose, di crescere poi anche dal punto di vista lavorativo, di entrare in contatto con tante persone, non soltanto a Ferrania, ma anche con persone delle altre sedi dell'azienda, cioè personalmente come crescita personale la valutò molto importante e quindi comunque di andare a Ferrania di vedere che non c'è più mi fa tanta tristezza. Da una parte mi sembra semplicemente un segno dei tempi che sono cambiati in questo modo, non bello per quanto riguarda il lavoro, ecco non vorrei fare la vecchia pessimista, però ragazzi una volta il lavoro c'era, il lavoro c'era e adesso siamo per parlare di lavoro, di tipi diversi per la carità potranno dare più soddisfazione, può darsi, però mi sembra una situazione molto più difficile, noi chiamavamo persone per interviste di assunzione, ne trovavamo tanti, erano felici di venire lì e si fermavano, il loro lavoro durava, avevano una carriera, diventavano dirigenti, diventavano capi reparto, adesso tutto questo è svanito mi sembra, siamo in mano, non lo so, le cose concrete sono sparite, esiste la finanza che governa le nostre vite.